E se non sai fare una potenza, ma sei comunque appassionato di scienza, E se non sai fare una potenza, ma sei comunque appassionato di scienza, E se non sai fare una potenza, ma sei comunque appassionato di scienza, Sta cadendo con una chitarra in mano perché è pronta a suonare più tardi, L'abbiamo già spoilerato! Non dovevo! No! Che vergogna! Ho detto solo suonare! Ora ti spengo il microfono, basta non parli più! No, spento davvero! Ciao Gabriele, è stato bello! Ebbene, bene, bene, insomma, ciao qui, sono Giulia, alla mia sinistra c'è lo spoiler man! Eccolo Gabriele! La mia destra! E Stefano! Bene, di fronte a me... Daniele, ciao a tutti! E Giulio, ciao! Giulio Magilio! Caccia è caduto, in fondo al burrone! Caccia! Ci sono! Caccia vi risaluta tutti qua! Perfetto! Bon! E quindi... Non lo so, adesso che è iniziato il tappetino possiamo mettere il primo petto! Esatto! No, 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 dobbiamo ringraziare la tua vita! Ah, giusto, ragazzi, siamo arrivati a ben 200 followers su Instagram! Bravo! Mi sembriamo degli sfigati, così fa, diciamolo che la pagina è nuova per l'inizio! Allora, aspettate che mi devo ricordare! E poi non sono 200, sono 200.000! Ah, ovviamente! È il 200k! Il 200 millesimo, attenzione! Esatto! Ed è il profilo Chicken2Cheek! Bene, posto! Bene! Di questi due figuri che si chiamano Osvaldo e Wendy, che sono un pollo di gomma e una Barbie! Sei sicuro che alla fine non ce l'avamo fatti il profilo su Polo? No! No, purtroppo! Non ancora, ma in lavorazione! Ok, no, perché pensavo... Quindi grazie Chicken2Cheek! Arribadisco il mio forte no a tutto questo, ma procediamo! Va bene, quindi ringraziamo Chicken2Cheek che ci ha regalato questo 200esimo like! Grazie Cari! Cari! Esatto! Fate tante belle foto! Esatto, esatto! Di polle di gomma! Esatto! Perfetto! We are together dancing Chic2Cheek! Grazie! Bene! E passiamo direi al primo pezzo di stasera! Esatto! E questo è la puntata prenatalizia, sì! Assolutamente! Assolutamente sì! Puntata prenatalizia, quindi come non nominare il grande classico di Natale, o meglio non grande classico, ma per noi grande classico da oggi! Dovrebbe esserlo, insomma, moralmente! Se lo merita, quindi ecco a voi, Christmas with the Ores!